Per contenere il contagio da coronavirus in Toscana, il presidente della regione Enrico Rossi ha chiesto di tornare a casa alle tante persone che hanno preso d'assalto le località turistiche toscane di mare e di montagna, che dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sono arrivate dalla Lombardia e dalle altre zone, chiuse fino al 3 aprile dal decreto del governo. Da queste zone, ha ricordato Rossi, ci si può muovere solo per motivi di lavoro e di salute, non di vacanza. Ieri è stata presa d'assalto l'Elba, tutta la costa, mi dicono che anche l'Aretino, la parte collinare, è stata presa d'assalto dalle province e anche qui ancora una volta da persone che vengono dalla Lombardia, persino l'Abetone, da persone che vengono da Modena e noi chiediamo a tutti questi di tornare a casa loro. Rossi, insieme all'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e al direttore dell'assessorato Carlo Tomassini, ha detto poi che in una ventina di ospedali toscani, accanto alle terapie intensive, saranno creati dei reparti bolla per mettere a disposizione dai 2.000 ai 3.000 posti letto per i pazienti meno gravi. Chiunque arriverà in ospedale sarà sottoposto a tampone. Per contenere il contagio da Covid-19 saranno creati anche degli alberghi sanitari per le persone che non possono stare in isolamento nelle proprie case. Grazie a tutti.